Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori, siamo esattamente in diretta dal Tribunale di Vasto. L'assemblea si è conclusa, è stata un'assemblea partecipata ma che in qualche modo ha preso atto della situazione che è la situazione che vogliono sottolineare e anche portare all'attenzione dell'opinione pubblica proprio i protagonisti. Tra l'altro tre sono proprio a fianco a me e comincerei con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Vittorio Melone che è il promotore insieme naturalmente all'Ordine di questa iniziativa di questa mattina. Intanto come è andata? Doveva esserci anche la presenza del Presidente dell'Aggiunta regionale, Marsilo. Poi sono stati delegati altri consiglieri perché siamo a ridosso del primo Consiglio regionale ma la presenza di questa istituzione così come di altri esponenti politici c'è stata. Che cosa vi siete detti e cosa avete stabilito? Sì, speravamo che in questa giornata si riuscisse a far incontrare la politica di questo territorio che si riferisce poi alle forze di governo e i magistrati e gli avvocati che da tempo rappresentano il problema della carenza di questo Tribunale in termini di personale amministrativo purtroppo condizionato dalla legge che avendo disposto la chiusura condiziona appunto come dicevo anche il turnover dei dipendenti amministrativi presso questo Tribunale. Siamo riusciti nell'intento perché c'è stata la partecipazione sia di un rappresentante dell'On. Grippa per il Movimento 5 Stelle, la Regione è stata rappresentata dal Vice Presidente Mastrangelo e ci sono stati anche la rappresentanza della magistratura come poi sicuramente vi diranno il Presidente del Tribunale e il Procuratore soprattutto abbiamo portato all'opinione pubblica la notizia che il sottosegretario Morrone intende al più presto incontrare il Presidente Marsilio per aprire un tavolo sull'Abruzzo, sui quattro tribunali abruzzesi partendo da quello di Vasto perché ha questa drammatica situazione quindi ritengo sia stata una felice mattinata per l'Avvocatura, per la Magistratura e per questo territorio. Il Procuratore Capo Giampiero Di Florio è presente anche in questa Assemblea per ancora di più supportare e dare un segno importante a questa istituzione. È presenza necessaria in totale adessione al deliberato del Consiglio dell'Ordine perché era necessario far sentire la nostra voce. D'altra parte siamo qui, lavoriamo con delle scoperture di organico superiore al 40% e lei comprende bene come sia difficile dare risposte in termini di efficienza e di efficacia all'azione penale se non abbiamo il personale su cui poter contare per smaltire il nostro lavoro. E invece al Presidente del Tribunale, chiedo scusa, facciamo questo avvicendamento, al Presidente del Tribunale, Gian Giacomo, chiedo ancora di più, confermo ovviamente delle difficoltà che si vivono quando c'è poco personale ma anche quando questo personale considerando che sullo sfondo c'è forse la chiusura del 2021 ma è un altro discorso perché in questo momento parliamo dell'emergenza, dicevo soprattutto quando questo personale non è di età giovanissima e quindi comunque c'è una prospettiva pensionistica anche ravvicinata. Come si lavora in questo modo? Si lavora male, si lavora in certi settori con dei rallentamenti che sono anche proprio dei veri e propri blocchi di certi settori di attività che si bloccano per certi periodi e poi si cerca di mettere da altri settori per riattivarli perché chiaramente questa è un'attività che per quanto ci sono delle priorità ma anche quelle che non sono prioritarie devono essere effettuate a un certo punto. Per cui è una gestione organizzativa particolarmente difficile e complessa con delle proteste che si levano sia da parte degli avvocati sia da parte dei cittadini che noi cerchiamo in qualche modo di razionalizzare. Anche noi siamo a una scopertura attuale del 40% nel corso dell'anno con altri pensionamenti arriverò al 45%. È una situazione difficile. Per far capire ai cittadini è un po' come se in un ospedale ci fossero i medici e mancasse il personale infermieristico. È un po' questo il rapporto. Noi magistrati ci siamo tutti in questo momento nell'ufficio di vasto, sia i magistrati professionali che i magistrati onorari, ma anche il personale amministrativo. È come se ci fossero i medici e non ci fossero gli infermieri. Che cosa si può chiedere? Quello che abbiamo chiesto è innanzitutto la riapertura delle piante organiche che può essere fatto con un provvedimento legislativo. Quindi la difficoltà forse anche quella perché se è vero che devono lavorare i tecnici del Ministero è altrettanto vero che senza volontà politica non andiamo da nessuna parte. Ci deve essere una spinta anche da parte della politica se si tiene a cuore questo territorio e soprattutto se si vuole far sì che la giustizia qui abbia delle risposte efficaci. L'altra parte entrare la mattina e dover fare i conti con 5, 6, 7 persone a disposizione in prospettiva di futuri pensionamenti tra luglio e la fine dell'anno vuol dire di fatto iniziare a lavorare avendo già la consapevolezza che ciò che si fa forse domani non esce dalle nostre scrivanie. In conclusione cosa accadrà invece giovedì a Roma? A Roma c'è il sit-in ma soprattutto poi in previsione anche del proseguo di questa battaglia c'è questo incontro con il sottosegretario che sarà in quale dato? È da stabilire appunto tra il presidente della regione e il sottosegretario. Io proprio oggi dovrò sentirmi con il primo segretario, il segretario particolare chiedo scusa del sottosegretario di Stato Morrone per stabilire la data appunto. E invece voi so che è un'organizzazione diversa ma avete intenzione anche di andare, di partecipare a questo incontro, a questo sit-in a Roma? No, noi perseveriamo come istituzione, come ordine nel dialogo che si è avviato. In passato lo abbiamo fatto quando non c'è stata data risposta e quindi oggi che attendiamo facendo chiaramente la giusta pressione perché i tempi sono di ieri e non di domani quelli che affliggono il nostro tribunale ma finché ci sarà questa possibilità di dialogo riteniamo che è giusto portare avanti il dialogo. Protesteremo se non ci daranno risposte, se a queste promesse non seguiranno dei fatti. Ci sono altre domande dal studio, Carmine? Grazie Marina, a te e ai tuoi autorevolissimi ospiti. Grazie, buon lavoro.